Eccoci e bentornati sul mio canale, riprendiamo con Watch Dogs Mentre ho trovato un altro veicolo in giro, mentre me ne stavo andando veramente a farmi proprio non i cavoli miei Quindi mi stavo girando la città, ho trovato questa bella motocicletta però senza perder tempo e dilungarci ragazzi Io volevo continuare insieme a voi i trip digitali, quindi fermiamoci un attimo con la nostra motoretta Guardate quanto è carina che ho trovato parcheggiata E andiamo nei trip digitali, abbiamo fatto Alone e Madness, quindi adesso proviamo Psychedelic Clicchiamo, questo trip digitale ti fa rimbalzare su dei fiori psychedelici Proviamo un po', vediamo che cosa ci aspetta Vai Aiden, fa le ninne Perfetto, prova a rimbalzare al centro del fiore per fare più punti Quindi sicuramente anche qui avendo visto sia Alone che Madness dovremo continuare per il discorso delle abilità Quindi più si gioca più si sbloccano delle cose per andare più lontani possibile E fare dei trip sempre più imponenti con punti sempre più importanti Ora questo sono molto curioso perché, vedete, c'è un fiore prima della città Dove cacchio vai? Bello! Ma come cacchio, come lo gestisco? Che pezza! Provo a rimbalzare al centro del fiore per fare più punti Però devo riuscire a capire com'è il funzionamento dell'amico Aiden sul fiore Quindi dobbiamo assolutamente prendere il centro Qua è rimbalzato Qua è rimbalzato Qua lo sta facendo tipo tutto da solo Ragazzi, io non sto muovendo nulla Ecco, adesso lo sto muovendo un po' Perfetto Io muovo adesso solo le frecce Bello! Tento che a momenti prendiamo quella botta là Ah, perfetto Che spettacolo comunque Sembra veramente no! Che trampate che prendi Prende delle trampate Il tuo moltiplicatore aumenta quando esegue un rimbalzo perfetto su un fiore No, voglio provare ancora un'altra volta ragazzi Perché mi sta Mi sta leggermente intrippando questa cosa E voglio assolutamente riprovarci Per poco abbiamo preso pure quello Mamma mia che trampata che diamo per terra Qua è da capire come Oh, senti come strilla l'amico Aiden Attento Perfetto Bene Aia! 32 quindi vuol dire che non siamo andati benissimo Questo va bene Ok Andiamo Questo ci siamo lisciati prima Vai, preso! 52 Eccolo che arrivo, eccolo che arrivo, eccolo che arrivo Benissimo No, 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 no Che trampata ragazzi Se cade il tuo moltiplicatore si azzera cerca di arrivare alla fine senza cadere Per ottenere punteggi più alti Mamma mia Forte sta cosa Poi più che altro perché ci spariamo tipo quasi tutta la città vedo E poi escono fiori di ogni colore e quant'altro Che bello Dai, un'altra volta e basta poi Perché se no veramente ci passo Ci passo il pomeriggio a giocarci Eccomi, eccomi Bene, 65 Prima mi sembra che era andato peggio 29 è uno schifo Nooo Ci sono arrivato Era troppo Troppo debole la rincorsa Troppo debole Infatti bisogna che ci faccia un po' di Un po' di allenamento devo fare su questa modalità Già le altre sono riuscito un po' a A prendermi A prenderci la mano Però dai, l'ultima volta Dai, l'ultima Poi prometto che Smetto perché mi sta troppo piacendo Arrivai Arrivai, arrivo, 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 arrivo 51 Vai, vai, vai qua Perfetto Eccomi, eccomi Vai, 68 Bene così Bene, 97 97 è fantastico 47 non tantissimo Però adesso ci arrivo Preso Questo l'avevamo lasciato prima E l'ho preso Perfetto 100 Bellissimo Ecco che ho preso Sto prendendo il via ragazzi Sto prendendo il via 93 Quale andiamo? Andiamo a questo Benissimo Dai, dai Che mi ho preso un po' la mano Arriveremo un po' più lontano Vai, vai, vai Qua, qua, qua Perfetto Attento A momenti prendiamo la telecamera Piena in faccia Che forza Guardate poi Che colori sparati Che ti intrippano Come che Perfetto 100 Perfene 79 Arrivo, 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 arrivo In questo bellissimo Trip digitale Psichedelic Cosmico Che viaggiatore Amico Che succede? Germogli completato Bene Abbiamo sbloccato pure il trofeo Ho visto Anche un bel trofeo Precisione 77 Moltiplicatore Massimo 9 Anelli Traversati 25 Cambia pure il percorso Che spettacolo Andiamo a vedere il prossimo percorso Dai Vediamo un po' Invece questo allora Non dà punti abilità Permette di Di andare avanti E quindi si fa A tracciati Bene Dai ragazzi Passiamo al prossimo tracciato Ho completato il germoglio Che Fantastico Bello pure questo Pure nel senso Fino adesso Non saprei dirvi Qual è il più bello Poi completato Che nel prossimo video Ci spariamo anche il quarto trip Vi dico Quale mi piace Di questi quattro Però ho visto che Dallo smartphone Poi ve lo faccio vedere Che sotto Ci sono altri due riguatri Non so se poi Se ne sbloccheranno altri Di tripe digitalli Però Per starci Lo spazio Sembrerebbe di sì Mamma mia Me la sono rischiata Qua Qua me la sono rischiata 60 Qua 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 Trambata Solo La caduta Comunque Non è Molto Non mi sembra molto reale È un po' È un po' strana La caduta Come tipo Quando abbiamo preso Prima la La trambata E dai Un altro tentativo E basta Dai su questo nuovo percorso Ci possiamo provare Un altro tentativo Vai qua 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 Oh Non riesco a sterzare Quindi Converrebbe prendere Quella A destra Attraversa tutti gli anelli Per ottenere un punteggio migliore Infatti Il punteggio È quel discorso Dei tre fiori Che si vanno a A colorare Allora Scegli percorso Ah qua possiamo fare pure Scegli percorso Vedete Germolli Decollo Una pista Un rimbalzo Fluviale Un salto in centro Flippato Spazio angusto Oro in bocca E purtroppo non mi fa vedere Quello in basso Perché ovviamente ancora sono tutti da Da sbloccare Svegliamo il nostro amico Aiden Vi voglio far vedere Vi voglio far vedere Vi voglio far vedere questa cosa Del discorso dello smartphone Poi fatemi sapere voi A che percorso siete Se state giocando Anche voi I trippi digitali Psichedeliche Ora ci andiamo un attimo E volevo farvi vedere Questa cosa Così rivedete anche Come Come si sveglia bene L'amico Aiden Eccolo qua A posto A posto Allora se vedete Qui i trippi digitali Qui sotto Sembrerebbe che Ne possano apparire Non due Anzi altri tre Poi vorrò vedere Come si sbloccano Perfetto ragazzi Allora ci possiamo fermare qui E ci vediamo Nel prossimo video Che ci andiamo a fare Il trippi digitale Spider tank Vedo un ragno Quindi penso che Ci sia qualcosa Di veramente strano Ci vediamo nel prossimo video Insieme a Watch Dogs